Sì, oggi è una gara, sono gare che devi cercare di interpretare nel modo giusto, con la mentalità giusta. La squadra arrivava da un lavoro importante questa mattina, da un lavoro il giorno precedente, quindi volevamo vedere la risposta sotto questo aspetto. A livello mentale l'approccio è stato positivo, quindi siamo soddisfatti. È chiaro che aspettiamo di avere delle gare un po' più difficoltose per vedere anche la fase difensiva, come si comporta. In questo momento il centrocampo e la fase offensiva stanno lavorando bene. Il Catanzaro fino a questo momento sono soddisfatto per l'applicazione e il lavoro che stanno mettendo i ragazzi. Al di là dei risultati che in questo momento sinceramente non mi interessano, sto vedendo che allenamento in allenamento si applicano, lavorano, danno intensità, danno la massima disponibilità, quindi sotto questo aspetto sono molto soddisfatto. Sì, questo è molto importante che la tifosieria ci segua quest'anno. Ma conta anche, a parte la tifosieria, il tipo di gioco che abbiamo visto oggi in campo. Chiaramente giocavamo con una squadra di eccellenza, però il Catanzaro ha fatto dei numeri importanti. Giusto come ha detto il mister, già siamo pronti al 50%, ma oggi ho visto delle giocate di alcuni ragazzi che l'anno scorso non le ho viste. Quindi significa che c'è qualcosa di buono e qualcosa di importante nel Catanzaro. Quando si vince fa sempre piacere. Certo, se avessimo fatto 13 sarei stato più contento, però va bene, perché mi sembra che abbiamo fatto 9. 9 a 0 va bene perché ci sono tante cose che mi sono piaciute, alcune un po' di meno, però la maggior parte delle cose mi sono piaciute. E questo è importante e di buon auspicio per il futuro. Sì, ancora abbiamo circa più di 20 giorni prima di chiudere la campagna buonamente. Io mi auguro che riconfermeremo il numero dell'anno scorso perché è importante che la tifosiera ci dà questo segnale, ma sono convinto che addirittura lo supereremo pure.